Il mio locale è rimasto chiuso e inagibile sia come abitazione che sia come attività sotto, che era un po' casa e bottega. Tutto l'edificio deve essere demolito perché non è più ripristinabile. Finanziamenti dei danni subiti per ancora adesso non abbiamo fatto niente, c'è una domanda che abbiamo inoltrato, ci seguono poi le associazioni dei commercianti e ci diranno quando e quanto. Lì un comignolo è caduto, ha forato il tetto della veranda e qui adesso abbiamo già un po' pulito ma vedete i resti di tre tavoli che sono stati completamente sbriciolati ed erano già parecchiati per il giorno dopo. Solo pensare che a mezzanotte c'erano ancora dei clienti e è venuto tutto nel 20 secondi che è durata la scossa del terremoto dovuto appunto agli spostamenti e delle faglie nel terreno, hanno creato dei movimenti, delle compressioni e che queste sabbie sono uscite in forma liquida. Le automobili sono state sollevate dalle sabbie e schiacciate contro il soffitto per dire la forza con l'uscita di queste sabbie che è durata pur solo qualche secondo. La mattina del terremoto siamo arrivati qua al ristorante, io, mio marito e mio figlio verso le 4.40 nella speranza di trovare tutte le persone che avevano dormito in locanda vive e salve e così è stato. Siamo entrati nel ristorante e abbiamo visto che non c'erano crepe per cui abbiamo aperto le porte a tutti, abbiamo offerto caffè, cappuccini, pane e biscotti anche ai passanti perché eravamo tutti infreddoliti, sbigottiti. Poi verso le 11 abbiamo messo un grande tavolo sotto al portico e abbiamo cominciato a dare pane, salame, prosciutto e anche pasti caldi, tutto gratuitamente fino a quando la protezione civile però in seguito all'un ulteriore scossa delle 11.38 ha chiuso acqua e gas. La scuola di cucina attualmente non è ancora funzionante e i corsi li faccio solamente al di fuori del paese. Avevamo tre dipendenti, adesso ne abbiamo due e sono attualmente operativi, abbiamo chiuso il giorno del terremoto il 29 maggio, non abbiamo avuto grossi danni, qualche pezzo d'intonaco, bottiglie cadute, abbiamo riaperto il 26 giugno e siamo entrati operativi a tutti gli effetti, anche se il centro era praticamente inagibile quasi, non abbiamo chiesto contributi, quindi ci siamo rimboccati le maniche. Qui siamo ancora a 100, il terremoto si è sentito moltissimo, abbiamo chiuso l'attività per una settimana perché c'era tutto il centro storico chiuso, era tutta zona rossa, la chiesa aveva subito molti danni, abbiamo riaperto dopo una settimana, martedì dopo, il personale ha scelto di stare in ferie perché la situazione era tragica, ha capito bene la situazione, io non ho chiesto aiuti a nessuno perché pensavo ci fosse gente messa peggio di me, di grazia che io avessi ancora il negozio e ci siamo aiutati a vicenda. Previsioni per il prossimo Natale, io sono nata ottimista, voglio continuare ad essere altrimenti non si farebbe più questo mestiere. Il grosso danno a Ferrara è stato la mancanza per diversi mesi di un turismo, è stato procurato un allarmismo tale che di fatto, anche giustificatamente, il turista non è più venuto a Ferrara, ora stiamo vivendo una fase in cui vediamo un movimento positivo, il turista sta ritornando e comincia ad avere una propensione al consumo e alla visita della città. I pubblici esercizi hanno subito cercato di reagire, di dare un messaggio positivo, di rimboccarsi le maniche, soprattutto con operazioni di marketing e di ritornare alla normalità. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!